Ascolta, mamma è vicino a te, devi dire a mamma, c'è qualcuno che... Chi sei signore dell'altra volta? Vado a chiamarla, ma sto facendo il bagno, non c'ho a farlo venire. Dille che son qui, dille che è importante, che aspetterò. Ma tu hai fatto qualche cosa alla mia mamma? Quando chiedi tu mi dici sempre, Dilli che non ci sono. Ma dimmi, sai scrivere di già? È bella la tua casa, a scuola come va? Bene, ma dato che la mia mamma lavora, che è la vicina che mi accompagna a scuola? Però sono una firma, un mio diario, gli altri hanno quella del loro papà, io no. Dille che son qui, che soffro da sei anni, tesoro proprio la tua età. Ah no, è cinque anni, ma tu la conosci la mia mamma? Non mi ha mai parlato di te, aspetta eh. Piange il telefono, perché lei non verrà. Anche se credo ti amo, lo so che non mi asconterà. Piange il telefono, perché non hai pietà. Però nessuno mi risponderà. L'estate andate a villeggiare all'hotel riviera, ti piace il mare. Oh sì, tanto. Tu sai che sono da lei? Ma dimmi, come fai a conoscere l'hotel riviera? Ci sono state anche tu. Dille la mia vera e quanto a tutte e tue ti voglio bene. Ci vuoi bene? Ma io non mi chiamai visto. Ma che cos'ha? Perché ti ho dato a volte? Perché piange. Perché? Piange il telefono, perché lei non verrà. Anche se credo ti amo, lo so che non mi asconterà. Piange il telefono, perché non hai pietà. Però nessuno mi risponderà. Ricordati però, piange il telefono, l'ultima volta ormai. E dir perché domani lo saprai. Parla, aspetta, parla, aspetta, parla, aspetta, parla, aspetta. Parla, aspetta, parla, aspetta. Grazie.